Zero. Molti di voi non hanno una ragione. Hanno la ragione di dire io voglio essere riconosciuto e voglio essere affermato. Bella ragione di merda. Quante volte con i tuoi progetti musicali ti sei sentito così? Con le spalle al muro? Dove manca l'aria, manca il fiato, non si riesce a sviluppare i progetti. Bene, oggi ve ne voglio parlare in quattro punti e lo voglio fare però partendo dalle parole di un grande creativo. C'è veramente tanta musica ed è gratis soprattutto. Ricordiamoci che la musica è gratis. Noi non ci rendiamo conto di questa roba. Cioè se non rende conto di chi fa la musica si rende conto di questa. Chi ascolta non gliene frega niente. Tanto pensa che spendiamo nove euro al mese per ascoltare tutta la musica che vogliamo. E in più la gente rompe pure le palle. Quindi godetevi la musica, andate a fanculo. E pensa che ogni settimana vengono fuori cento canzoni. Ma chi c'ha voglia di ascoltare cento canzoni? Questa roba della saturazione del mercato, del fatto che ogni settimana escano cento canzoni, mette nei guai chi fa musica e produce dischi. Perché ora fare un disco effettivamente non ha più senso. Forse quelli vecchi di una certa età possono fare dischi perché hanno una cerchia di fan che ascoltano i dischi in sé. Però uno giovane ora che vuole emergere, gli conviene andare fuori con i singoli. Vedi che molti giovani ora tirano fuori i singoli e funziona. Perché effettivamente c'è una cosa molto importante che manca a tutti ed è il tempo. Non c'è più tempo. Capito? Questo è il periodo, è l'era dei dieci secondi di TikTok. Tu in dieci secondi mi devi colpire. Se entro dieci secondi non dici qualcosa o fai qualcosa la gente si annoia. Pensa che è palle. La musica è gratis, il mercato è saturo, gli artisti o chi vuole emergere non riesce ad emergere, e io direi non riesce a guadagnare e a sostenersi. Quattro, il tempo. Nessuno si prende il tempo né di ragionare né di progettare né la pazienza di costruire il percorso. Allora, parto dal primo punto. La musica è gratis. Beh, diciamo, è un concetto banale, no? Ma non so come dire, tanti non se ne rendono conto. Noi è anni, sono due anni e mezzo, che diciamo queste due frasi. La prima, la musica è un mezzo, non il fine. Due, dalla musica non si guadagna, no? Questo perché? Perché il mercato è cambiato. Se voi prendete i modelli di business che c'erano, ripeto, 15 anni fa, 20 anni fa, e lo voglio ripetere, la musica era a tutti gli effetti un prodotto e dietro quel prodotto c'era un certo tipo di filiera. Era un prodotto poiché l'ascolto, la fruizione era diversa, i modelli comunicativi erano diversi, la tecnologia era diversa. Era un mondo diverso e quindi le cose evolvono, cambiano e oggi siamo arrivati quasi totalmente alla gratuità, non so se si dice, della musica, no? Cioè quindi, come dice Salmo, con 9 euro ti ascolti tutta la musica che vuoi. E quindi qual è il valore di quell'oggetto, no? Se così vogliamo, diciamo, dire. E questo è un tema importante, perché? Perché tanti ragazzi, non rendendosi conto di questo aspetto, continuano a imperterriti a, in qualche modo, pensare che ad un certo punto tu dalla musica guadagni, no? E bisogna fare molta attenzione a questo concetto ed è per questo che io voglio un attimino esploderlo. Quindi esplodiamo un attimino il concetto del dalla musica non si guadagna. Perché una persona potrebbe dirmi, non è vero, dalla musica si guadagna. Beh, certo, a che punto si inizia a guadagnare dalla musica? Sicuramente quando hai un determinato pubblico, è un risultato, no? Quando la tua musica viene sfruttata, sfruttata in senso positivo, quindi viene utilizzata, ok? E quindi genera quello che sono i diritti d'autore, i diritti connessi, ok? Sicuramente quello che viene generato di conseguenza ha una progettualità che ha dei feedback, quindi che ha un pubblico e quel pubblico può essere monetizzato attraverso i concerti, attraverso il merchandise, attraverso quello che è, diciamo, tutto quello che ruota attorno al personal brand. E un altro modo è sicuramente quello di sfruttare la propria visibilità, il proprio personal brand, per che cosa? Per dare fondamentalmente tale visibilità e vendere tale visibilità nei confronti di brand, nei confronti di altre aziende, che possono sfruttarmi come veicolo per arrivare a un pubblico. Però capite che da zero a questa situazione c'è un percorso. Punto 4, io, come dice Salmo, oggi non c'è più tempo, no? Ci vuole tempo per arrivare a una situazione del genere. Quindi la domanda è, ma in questo modello, dove la musica è un mezzo, dove la musica è gratuita, come facciamo a sostenere i costi produttivi, a sostenere quella che è la nostra attività? Beh, le opzioni sono due. Uno, o si lavora da un'altra parte e si sostiene la nostra creatività, il nostro voler fare arte, ok? Senza dover sottostare non solo alla condizione mentale, alla gabbia di dover per forza ottenere dei risultati dietro a quello che stiamo facendo musicalmente, che questo è il problema di tutti voi. Voi fate le cose non perché vi sentite di dover esprimere delle opinioni, esprimere un concetto o come una forma liberatoria di espressione. Lo fate con il fine premeditato di. E questa, nel mondo dell'arte, basterebbe studiare un minimo, capite che è qualcosa che non può funzionare, ok? Perché? Perché come dicono anche i grandi, lo dice Rick Rubin, lo dicono tantissimi produttori, la musica è a tutti gli effetti una sorta di roulette. nessuno ha la formula per far sì che un prodotto musicale, che non è più un prodotto, funzioni. Quindi, di conseguenza, qual è il ragionamento che bisogna fare? Come possiamo e come puoi fare in modo di costruire un sistema che sia utile agli altri? Quindi noi diciamo sempre la musica è un mezzo, non è il fine. La musica è il tuo veicolo. Ma cosa stai veicolando? Stai veicolando il fatto che il mio progetto è unico? Ma è giusto che dall'altra parte qualcuno dica chi se ne frega? Ok? Quindi ci vuole tempo per arrivare a una determinata condizione e dobbiamo cambiare i modelli di business, dobbiamo crearci dei nuovi modelli per permetterci di poter costruire, sviluppare, foraggiare i nostri progetti. È fondamentale. Ma non andiamo oltre. Punto numero due. Saturazione del mercato. Idem. Ora si dice che il mercato è saturo. Io penso che da una parte non è che... Cioè, semplicemente si è aperta l'accessibilità e quindi aprendosi l'accessibilità logicamente chi riesce a emergere? Questa parola che veramente ti manca l'aria, no? Che è una parola che si usa, no? Gli artisti emergenti, musicisti emergenti. Cioè, emergi se hai veramente qualcosa da dire, se hai veramente delle competenze solide, se ti fai veramente il culo, se ti preoccupi davvero di costruire dei progetti in modo serio, in modo strutturato. Perché? Perché al contrario, logicamente, capite che la saturazione è, voglio dire, ti porta ancora più sotto se tu non fai un ragionamento qualitativo, no? Quindi il mercato è saturo? Assolutamente sì. Ma io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Cioè, se il mercato è saturo, significa che c'è una porta da qualche parte che ci può permettere di uscire dall'oceano della competizione. Dall'oceano, ok, rosso ed entrare nell'oceano blu, colore che a me e a noi di MB piace molto. Quindi questo è il ragionamento che bisogna fare, come lo si fa strategicamente. Andando a capire e comprendere quali sono i meccanismi di funzionamento di un dato mercato per trovare che cosa? Delle porte e delle vie alternative. Un giovane che vuole emergere. Allora, un giovane che vuole emergere, musicista, chiunque di voi abbia un progetto o altro, secondo me dovrebbe semplicemente dare retta a due principali aspetti. Uno, la qualità. Due, la continuità. E il terzo, che sarà il punto successivo. Qualità e continuità sono due cose fondamentali, al netto poi della strategia che uno decide di utilizzare, no? Diciamo che la cosa che noi notiamo che è la più, o meglio, è la meno considerata è la continuità. Anche la qualità, per la carità di Dio. Però la qualità, mettiamo conto che diamo per scontato che ci deve essere, deve esistere, no? A livello produttivo, a livello proprio artistico. Perché sennò dove andiamo? Però la continuità. Le persone fanno fatica ad avere continuità. Perché? Perché non hanno una ragione. Cioè, molti di voi non hanno una vera ragione che vi spinge ad avere una continuità. Vi porto un esempio. Non so, nel mondo del self-help si usa dire Ah no, sorridi e stai positivo che così vedrai che tutto è positivo. Sì, ma devi avere una ragione per sorridere ed essere positivo. Se non hai una ragione, è difficile uscire fuori e stare così, stare positivi. È un po' come dire, le persone che mi dicono Minchia, siete dei martelli, sei un martello, fai tre video. Ma perché? Perché io ho una ragione di dirvi queste cose. Ho una ragione che vuole essere una ragione di creare una consapevolezza, di cercare di aiutare gli altri, di cercare di far evitare degli errori che io stesso ho commesso in passato nel mio percorso, cercare di darvi sempre degli spunti che possano essere utili. Poi, logicamente, anche qua, con un tornaconto personale, beh, ma assolutamente sì. È logico che le persone che poi vogliono approfondire, eccetera, eccetera, passano in altri leadi formativi che non sono quelli gratuiti di YouTube. Quindi, certo, anch'io lo faccio per un tornaconto, ma ho una ragione dietro questa cosa, se no col cacchio che sarei riuscito ad avere questo tipo di continuità, no? E invece su questo molti di voi cadono. Cioè, fate tre pezzi all'anno. Oppure, come mi capitava ieri, di parlare con un ragazzo, Paul, che gli dice ma qual è il tuo obiettivo rispetto al progetto? Eeeh, non si ha un obiettivo. Eh, ma allora, se non hai un obiettivo, vuol dire che non c'è una ragione, vuol dire che non avrai modo di essere efficace. Perché è una questione fondamentale. Cioè, devi avere una ragione per fare quello che fai e devi strutturare una strategia per fare in modo che quella ragione si possa sviluppare in una visione, in qualcosa di vero, in qualcosa di concreto, in qualcosa che ti permette di avere l'energia mentale di andare avanti. Zero. Molti di voi non hanno una ragione. Hanno la ragione di dire io voglio essere riconosciuto e voglio essere affermato. Bella ragione di merda. Quattro. Il tempo. Il tempo di arrivare. Molti di voi arrivano e dicono no, perché io ho visto che l'artista o quel musicista ha fatto questo... Ma sì, ma tu ti rendi conto del percorso. Prendiamo l'esempio di Salmo che è un creativo, perché a me la parola artista sinceramente mi sta proprio sui coglioni, ma non... Cioè, mi sta sui coglioni in generale. Faccio veramente fatica a usarla. È un creativo, è una persona sicuramente che è dov'è perché ha non solo la testa sulle spalle, sa veramente quello che sta facendo. Beh, ma guardate il suo percorso. Cioè, guardate la gavetta che ha fatto... Guardate gli anni che ha messo ad arrivare dove è oggi. Oggi uno dice sì, fa i palazzetti e fa... Sì, ma qual è stato il percorso? Hai la forza, la fame, la pazienza di fare quel tipo di percorso? Perché si punta, come dice anche Salmo, Oggi 10 secondi, tutto è subito. È un po' come le persone che non avete idea di quanti ci scrivono dicendo ah, ho visto i vostri video se volete vi diamo una mano a tagliarli così perché tutto deve essere veloce perché nessuno è più in grado di stare in silenzio 10 secondi. sono lunghi eh 10 secondi pensa quante cose puoi pensare in 10 secondi quindi il tempo ragazzi datevi tempo e preoccupatevi di imparare di studiare di essere curiosi di capire che il mercato è cambiato e di piantarla di continuare a fare i sognatori va bene essere sognatore per la carità però a un certo punto dobbiamo anche mettere i piedi per terra perché se no nella saturazione in questo lago va a finire che colliamo a picco come dei come dei veramente delle tegole no quindi il tempo il tempo di riflettere il tempo di studiare il tempo di applicarsi il tempo di crescere il tempo di progettare ok il tempo di superare anche no determinate situazioni determinate condizioni quindi io spero che queste riflessioni vi siano state utili vi ricordo che lunedì esce tra l'altro un documentario ok piccolo documentario chiamiamolo sì chiamiamolo documentario non so neanche io come chiamarlo dell'esperienza fatta un mese fa con con questo giovane artista che è Christian e insomma potrete ascoltare il lavoro fatto potrete vedere un pochino il dietro le quinte e l'abbiamo fatto proprio per farvi capire che noi continueremo questa battaglia legata a una consapevolezza non solo io direi sui temi dell'imprenditoria musicale ma io dico proprio in generale su quello che è il mondo della musica la sostenibilità perché poi ripeto la sostenibilità è una conseguenza cioè avrete dei progetti sostenibili se farete tutta una serie di step e se avete la pazienza e il tempo di arrivarci arrivederci a tutti grazie a tutti